Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Elektronica Il robot in questi roboti controlli una macchina più grande. Il primo robot, il green, è stato second place allo. E questo robot è stato fatto per la nostra vita in Japan. Questo è un robot molto sturdio. È completamente in un strumento steel frame. È uno dei robot più solidi che ha avuto la competizione. Grazie a tutti.